Buonasera a tutti, abbiamo appena avuto la conferma ufficiale di 9 casi di Covid a Grottagli, di nostri concittadini che si sono sottoposti al tampone e che sono in isolamento. Sono persone che svolgevano, che svolgono attività lavorativa presso un'azienda agricola di Polignano, la SOP. Ovviamente ritengo necessario invitare tutte le persone che negli ultimi 14 giorni hanno svolto attività lavorativa presso o per conto di quell'azienda agricola a rimanere in casa, a non uscire e a tendere di essere contattati dall'ASL per essere sottoposti agli accertamenti necessari. Vi prego, fate girare questo messaggio, invito tutti alla responsabilità perché è necessario evitare che ci sia la diffusione del virus. Per favore, tutti i soggetti che hanno avuto rapporti di lavoro con la SOP restino in casa in attesa di essere contattati dall'ASL. Grazie.